Raja, Raja Nainggolan, peccato, peccato che è finito così. Io me lo ricordo ragazzi, un anno fa non l'abbiamo raccolto come un giocatore di calcio. L'abbiamo raccolto come un rockstar, l'abbiamo raccolto come Gesù Cristo, come un profeta. Esagerato, ormai esagerato, se guardiamo l'immagine di un anno fa, un'euforia pazzesca, il cosiddetto top play è arrivato, il colpo più grande della storia di Suning. Adesso un anno dopo praticamente se ne va via, lo regaliamo al Cagliari. Ci sono voci, questo non lo posso confermare al 1000%, che dicono che perfino paghiamo una certa percentuale del suo ingaggio al Cagliari. Se dovesse veramente essere così, mi dico, cazzo come si fa? Noi abbiamo pagato 50 milioni di euro per barella, gli regaliamo Nainggolan e paghiamo pure una parte del suo ingaggio. Ma vabbè ragazzi. Comunque, penso che tutti quanti avete visto la sua intervista. Lui è uscito da un ristorante, adesso va in direzione Cagliari, gli hanno fatto due o tre domande e lui ha detto che è stato sì, è stata una scelta forzata. Lui ha parlato anche, ha dichiarato anche di voler dimostrare all'Inter di aver sbagliato. Speriamo che non lo farà, mi pare, nella seconda partita, dove l'Inter giocherà contro il Cagliari. Vi prego, vi prego. Sarebbe davvero brutto. Sfottò assicurato da parte di tutte le altre tifosi. Speriamo di no. Quando l'hanno chiesto perché, come mai, non ha scelto l'opzione Cina, ho visto un Nainggolan veramente serio, ho visto un Nainggolan che ha subito risposto che in questo momento le sue priorità sono ben altre. E questo lo capisco, ragazzi. La sua moglie sta lottando contro una malattia bruttissima. Gli auguro il meglio di vincere questa battaglia. Lo spero davvero con tutto il cuore. E posso ben capire che per Nainggolan, in un momento così, il calcio non ha più tutta questa importanza. Ovviamente questa battaglia è molto, molto più importante. Sotto questo punto di vista, questa scelta di ritornare a Cagliari, di rimanere in Italia, io la posso capire. Adesso vi chiedo a voi, ragazzi. È stata giusta questa decisione dell'Inter di mandarlo via? Abbiamo ben capito che è stata più o meno una decisione forzata da parte della società. Sì o no? Fatemi sapere la vostra opinione sotto i commenti. Adesso vi dico la mia. Prima vi voglio ancora dire un'altra cosa, ragazzi. Chi lo segue su Instagram, Rajan Nainggolan, anche visto che ha messo un paio di storie. Una ha messo Happiness is coming back. Sta ritornando la felicità. Non so se sta parlando del calcio, che potrà giocare a Cagliari, oppure se sta parlando della birra. Sarda, che mi pare che viene molto bevuta in Italia. Lo ho visto spesso, non lo so. La prossima storia che ha messo subito dopo. Parla un po' per la mia seconda teoria. Ragazzi, onestamente, il caro Rajan Nainggolan sembrava ubriaco. Un'altra volta. Ritorno a Cagliari. Prima storia su Instagram. Ha fatto gli auguri a Matteo Politano. Non lo posso adesso dire al mille per cento, ragazzi. Però, quando abbiamo visto il modo come ha parlato, il viso, andate a guardare la storia se ancora non l'ha cancellata. Ragazzi, io non sono scemo. Io non sono scemo. Forse sempre scemo, ma non lo sono ubriaco. Ubriaco un'altra volta, ragazzi, perciò. La mia opinione, mandarlo via sotto queste condizioni, ragazzi. Quando vediamo Miranda, regalato. Nainggolan, regalato. Probabilmente paghiamo pure l'ingaggio. Spero di no, spero di no. Sarebbe davvero qualcosa di assurdo. Icardi e Perisic svalutati in una maniera veramente incredibile. Con queste dichiarazioni in maniera pubblica. Questo non va bene per il mio sistema. Questo non fa più parte dell'Inter, del progetto di Conte. Parliamo di giocatori, ragazzi. Miranda, Nainggolan, Icardi, Perisic. Che poco tempo fa, senza problemi, potevi incassare 100, 120 milioni di euro. Siamo arrivati a un punto che non prendiamo proprio niente. Perciò, quando parliamo di strategia, del modo come l'Inter ha agito con questi giocatori qui, io non vado d'accordo. Dico, non mi piace. Poi, quando vediamo che fino adesso siamo già al terzo di agosto, non abbiamo neanche ritrovato dei sostituti per questi giocatori, non sono d'accordo, non sono contento. Però, se prendiamo Conte, ragazzi, che è arrivato all'Inter, un allenatore ossessionato, che vive per il successo, che ha parlato di promesse che non sono state mantenute, io sono convinto al 1000% quando Conte è arrivato, una delle prime cose che lui ha detto è Icardi, a livello, con i suoi comportamenti, così, Nainggolan, ragazzi, che fuma, che beva, ha girato tutti i locali di Milano, problemi disciplinari, c'erano gli audio, ragazzi, non è stato un anno facile con Nainggolan, veramente no, condizione fisica pessima, io ho visto un periodo di partite, su, ragazzi, aveva, faceva fatica ad insultare, con i compagni facevano un gol, verso la fine della partita, era morto, spesso, morto in campo, si è ben visto, Nainggolan, forma fisica, pessima, ragazzi, sta facendo una vita di merda, lo sappiamo, lo sappiamo, poi ho anche visto che c'erano dei momenti dove lui ha anche detto, adesso voglio cambiare, adesso mi alleno, anche per Spalletti, per ripagare la fiducia, c'erano anche dei momenti dove ha giocato bene, come contro il Pesce, il gol fantastico contro la Juventus, ci ha fatto il gol decisivo contro l'Empoli, grazie Ninja per questo, assolutamente sì, senza questo gol, ragazzi, giocavamo ancora contro la Birashiva questa stagione, facevamo di nuovo queste trasferte di merda, che meno male non li dobbiamo più fare, perciò ha avuto anche dei momenti buoni, però se prendiamo tutta la stagione, se prendiamo il prezzo che abbiamo pagato per lui, il zagnolo che abbiamo dato alla Roma, ha deluso molto, ripeto, ragazzi, condizione fisica davvero pessima, perciò io sono straconvinto che Conte, quando è arrivato all'Inter, ha detto sì, io vengo all'Inter, alleno l'Inter, però solo sotto certe condizioni, via i mercenari, i cardi, Nainggolan, giocatori che sono mercenari, come anche Peris, anche Peris c'è un mercenario che poi, come ha detto Conte, non vanno bene per il suo sistema, questi devono andare via, e dall'altra parte mi dovete prendere dei sostituti, questo penso sono state le sue, le sue non solo aspettative, proprio quello che lui ha detto, fin dall'inizio io sono straconvinto che erano le promesse, che erano le loro promesse, adesso abbiamo visto come è andato l'Inter, nella mia opinione, quando parliamo di management, non ha agito in maniera intelligente, adesso piano piano non sanno più come fare, perciò regalano questi giocatori, i sostituiti ancora non sono arrivati, perciò ragazzi sono due cose diverse, capisco Antonio Conte che vuole cambiare l'Inter in una maniera radicale, che tutti noi, questo era il nostro sogno da anni, dicevamo via questi mercenari, l'Inter deve cambiare, Antonio Conte lo deve fare, da questo punto di vista sono d'accordo, sono anche d'accordo che Rajan Nainggolan, ragazzi questa condizione fisica pessima, con i suoi comportamenti, ricordiamoci anche gli audio, ragazzi veramente vergognosi, dove ha insultato noi tifosi, uno che crea problemi, crea problemi, capisco questa scelta di mandare via questi tipi di giocatori, però ragazzi ripeto, il management, questo momento, ci troviamo adesso all'inizio di agosto, c'è ancora tempo, c'è ancora tempo, perciò io ancora non giudico, ancora non giudico, ma in questo momento devo dire, capisco l'intenzione di Conte, cambiare l'Inter in maniera radicale, capisco, però il modo come lo facciamo, il management, non sono d'accordo, non mi piace, fino adesso il management davvero pessimo, che non posso andare d'accordo, ragazzi, adesso iscrivetevi al canale di YouTube, seguitemi su Instagram, scrivetemi la vostra opinione, qui sotto il video, nei commenti ragazzi, e ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi, è sempre Forza Inter, e viva il calcio, sport più bello del mondo.